I creatori dell'Egitto Eterno. La Basilica Palladiana, con le sue geometrie rinascimentali, ospita i reperti di un popolo di grandi architetti. Suggestioni che si accendono a secoli di distanza, intatti nella loro forza, nel loro messaggio, nella loro testimonianza. In Piazza dei Signori procedono i lavori per allestire la grande mostra che si accenderà dal 22 dicembre. A fare gli onori di casa è il vicentino Cristian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino. Qui, nella sua città, la città del Palladio, ha curato la grande mostra con attenzione e passione. Mettere assieme oggetti che prevengono anche da collezioni diverse ci permetterà di avere uno spaccato ancora più chiaro su quello che era la vita nel villaggio di Real Medina. Deire al Medina, il villaggio fondato intorno al 1500 a.C., dove scrivi, disegnatori e artigiani lavoravano per costruire e decorare le tombe dei faraoni nelle valli dei re e delle regine, plasmando l'immaginario dell'antica civiltà nata sulle rive del Nilo. L'avventura a Vicenza sta per iniziare una favola reale, una storia che affonda le radici secoli fa. Il passato ritorna per raccontare come iniziò una civiltà che ha influenzato i millenni. Fino ad oggi c'erano una volta i creatori dell'Egitto Eterno.